La vita dopo Covid, come fare a caricarsi di energia, eliminare possibili rimpianti, insomma non sentirsi più bloccati? Io mi sono scritto un decalogo e te lo leggo. 1. Smettila di dirti che sei triste, ansioso, che ti dice male, diventa l'outsider di te stesso e cambia la tua storia. 2. Smettila di aspettare il momento giusto, perché il momento giusto è sempre. 3. Smettila di usare l'alcol per tamponare pensieri o tristezze. 4. Smettila di dire sì a tutti. 5. Quando pensi alla tua carriera, smetti di usare la cintura di sicurezza. 6. Smetti di pensare a breve termine, fai programmi a 5, 10 anni, 7. A parte qualche eccezione, smettila di preoccuparti di chi ti critica. 8. Avere confidenza vuol dire andare avanti nonostante la paura che è fisiologica. Bene, allora smetti di distruggere la tua confidenza. 9. Hai sbagliato? Capita, stavi facendo del tuo meglio. Capisciti, perdonati, smettila di autosabotarti. 10. Non ti arrendere mai solo su una cosa, te stesso. Ora, questi non sono né comandamenti né formule magiche, ma funzionano. Provali e questo è un minuto.